A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono male, ero rimasto al fatto che Unicredit volesse crescere in Germania e non so perché abbia cambiato idea, anche perché Unicredit ormai in italiano ha poco e niente, è una banca straniera e quindi a me sta a cuore che invece in realtà come BPM e Montepaschi che stanno collaborando e sono soggetti italiani che potrebbe organizzare un terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà, l'interrogativo mio e di tanti risparmiatori è Banchi Italia c'è? Banchi Italia che fa? Banchi Italia esiste? Banchi Italia che esiste? Banchi Italia vigila? Siccome sono tra i più pagati d'Italia, i dirigenti di Banchi Italia, da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo, non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo BPM-Montepaschi per fare un favore ad altri, mettiamola così, però c'è Banchi Italia e quindi noi dormiamo sonni tranquilli forse.